E qual va a punterà questa feina? E qui s'allastà? E qui ha toccato la tua? E qui ha toccato la tua? E qui ha toccato la tua? E qui ha toccato la forza? No è più San Iutanas San Iutanas di misteri di Colomì sui punti questa feina che ha feste a lì e il sogno di detenere San Iutanas San Iutanas Liguer con la sua equipe con la sua destra di Ila round darà lacia a tutti i mondi ineguitate tutti i mondi ne vanno il sogno di la marco il sogno di stati le paio alle qui s'accorθano qui si a tutti i mondi e qui a tutti i mondi la mia vita Grazie a tutti.